Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, ame, il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Oggi, nella solidità dell'annunciazione, idealmente tutta la nostra comunità civile e religiosa è qui, per compiere umilmente un atto di consacrazione al tuo cuore immaculato. Stiamo vivendo un tempo difficile e di prova, siamo tutti provati e preoccupati per diffondersi di un virus che sembra espaldersi di qualcuno. O Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, siamo certi che tu non ci abbandoni, ma intercedi per noi presto il tuo Figlio Gesù, affinché ponga figli a questo contatto. Madre della Consolazione, ti affidiamo tutti i malati e gli operatori sanitari perché siano sostenuti nel loro impegno. Accogli nel Regno Eterno tutti coloro che hanno tutti gli occhi a questo mondo. Preghiamo. O Padre misericordioso, tu hai voluto che il tuo verbo si incarnasse nel greco della Vergine Maria. Concedi di essere partecipi della vita nuova ed importanti a noi che abbiamo adorato il mistero di Gesù, tuo Figlio, nostro Fraterno, per odio e per odio, che vive e regna dei secoli dei secoli. Amen. E alla Vergine Maria, che qui si manifesta, con il titolo dell'annunciazione ora il pregnavo della città di Mesara, tra l'atto di consacrazione della città. Vergine Santissima, Madre di Dio Madre Nostra, Regina del Cielo e della Terra, come tu hai finito le volte a te cedereggiamo perché è il figlio di Gesù Ciro di salute, salvezza e pace. Ti ringraziamo per i tanti benefici della coppia e cura di madre e non ci fa mancare. O Maria, in questo tempo di prova cosa ne hanno potuto arrivare a cura della città di Gesù Ciro di ansia e si perde. Stendi il comando che l'ora ci ha troppo intenzione. Vergine dell'Annunciazione e del Sì Generoso Dio che è per noi. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria e della concepita l'opera dello Spirito Santo. Ave Maria, avevi grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno di Gesù. Ecco, ci sono la serpa del Signore, appena mi chiesti conto la tua parola. Ave Maria, avevi grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno di Gesù. E il verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, avevi grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno di Gesù. Salve Maria, appena mi chiesti conto la tua parola. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e sarei potenti delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi a Padre, la grazia dell'anima nostra, perché per l'annuncio dell'anno ci hai fatto conoscere il ministero, dell'incarnazione di Cristo al tuo figlio, per la sua passione croce, fatto giungiamo la gloria e la risoluzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio di sempre, nei secoli del secolo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio di sempre, nei secoli del secolo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio di sempre, nei secoli del secolo. Amen. L'Eterno e il Moso, come la loro Signore, esprita adesso la luce del prego e il porto di una pace. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito, chiedi e l'Eterno, chiedi e l'Eterno, chiedi e l'Eterno. Per le preghiere e leggi della Beatissima Vergine Maria, la benedizione di Dio sceglie su di noi, sulle nostre famiglie, sulla città intera di Mesara e Pianza. Vi benedica Dio Onipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amo. Nostra Signora dei malati, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi.